Ciao da NinoJFC, buon 8 marzo, buona festa della donna, quindi auguri a tutte le donne, in particolare a quelle che seguono NinoJFC, perché possiamo dirlo senza dubbio, quelle lì hanno una marcia in più. No, scherzi a parte, buona festa delle donne, poi ragazzi dico una cosa che può apparire come una banalità, però ricordate sempre che le banalità, le frasi fatte, dovete sempre vedere da quale bocca escono, cioè chi le pronuncia, perché a seconda di chi le pronuncia possono essere effettivamente banalità, frasi fatte, frasi buttate tanto per, oppure possono essere realtà, e quindi io penso di non essere una persona che dice banalità o frasi fatte, però permettetemi di dire una cosa che si dice spesso, ovvero che sì, ok, c'è la festa della donna, magari portate la mimosa alla vostra fidanzata, alla vostra moglie, la mamma, la sorella, l'amica, tutto quello che volete voi, però ricordatevi che non è l'otto marzo l'unico giorno in cui bisogna ovviamente rispettare le donne, quindi non è che portate il fiorellino e poi domani già iniziate a fare i coglioni, ecco questo voglio dire, questo poi vale per gli uomini nei confronti delle donne e viceversa, anche se festa dell'uomo non c'è, tra un po' c'è quella del papà, però è chi non è papà che fa non festeggia, io sono un papà ma di due gatti in realtà, quindi non penso di ricevere regali da loro, no, a parte questo, comunque auguro alle donne, e oggi voglio parlare di un argomento, anzi, like, like, ecco se no dimentico, ecco oggi giustamente ho dato la precedenza alla festa delle donne, però lasciate like, pollicione verso l'alto, qui sotto vi ringrazio sempre, tanto, perché veramente lasciate tanti like e questo mi fa molto piacere, perché come sapete insomma mi aiuta, mi aiuta in generale, dovrebbe aiutare il canale a crescere, quindi abbiamo superato i 4.500, viaggiamo verso i 5.000, speriamo di non raggiungere troppo tardi quest'altro piccolo traguardo e insieme insomma andiamo avanti. Allora, voglio parlare di un argomento, l'argomento portiere, allora l'argomento non ha un problema portiere, secondo me in questo momento, però se ne parla, però se ne parla, tra l'altro proprio ultimamente noto anche attraverso i vostri commenti, e qui apro un'altra parentesi, commentate, ragazzi io vi ringrazio delle visualizzazioni, vi ringrazio tantissimo dei like, però voglio i vostri commenti, anche una riga, due righe, però voglio sapere il vostro pensiero in merito a quello che io porto sul canale, ok? Così è una partecipazione attiva da parte vostra, come per esempio quando il sabato facciamo la live, no? E quindi vi leggo in chat. Allo stesso modo ragazzi io vi leggo e vi rispondo anche qui sotto, quando pubblico i video e voi commentate, quindi mi raccomando. Allora, anche nei commenti ultimamente è venuta fuori questa insoddisfazione nei confronti di Shesny, ok? Con molte persone che dicono insomma che non si sentono più tanto tranquille con Shesny, o in generale gli preferiscono chi? Ebbè il giocatore di cui ho la maglia qui con me, ecco qui la maglia di Perin, ho preso ovviamente anche la sua, ce l'ho già di Shesny dell'anno scorso di due anni fa, però una di Perin mi mancava e l'ho presa, ho preso questa qui arancione, e in tanti insomma me li ritrovo a invocare Perin come primo portiere della Juventus, secondo qualcuno già da subito, cioè nel senso già adesso non solo per la Coppa Italia o per qualche match sporadico di campionato, ma gradirebbero diciamo Shesny seduti in panchina a favore di Mattia Perin. Ma in generale questo argomento si può applicare più al futuro della Juventus, cioè a partire magari dalla stagione prossima, o tra una stagione, tra due stagioni, insomma, perché io ripeto, noi secondo me non abbiamo un problema portiere, ok, Shesny secondo me certe volte viene trattato male un po' troppo, cioè nel senso dai tifosi della Juventus, ma comunque non considerato un valido portiere, secondo me invece è un valido portiere, non è impeccabile, ma questo è anche raro, trovare i portieri impeccabili, poi certo noi abbiamo uno standard altissimo se consideriamo la storia della Juventus, visto che ha visto, per esempio, a parte grandi portieri in generale, perché poi i peruzzi taconi non erano da buttare anzi, però in particolare Zoff e Buffon hanno rappresentato praticamente i migliori portieri del mondo per varie stagioni, quando loro sono stati appunto in campo con la maglia della Juventus, però al di là di questo, Shesny magari non è un portiere impeccabile, però allo stesso tempo, come dire, non mi dà particolari preoccupazioni, tranne magari quando escono fuori delle papere, però insomma ci ricordiamo sempre l'inizio della, non era questa stagione, no, era la stagione scorsa, però lì ragazzi era veramente qualcosa di surreale, cioè che non va nemmeno col valore del portiere, quel periodo vi ricordate di quelle papere, poi ha fatto interventi importanti, ha parato anche dei rigori decisivi, certo non è impeccabile, anche adesso la partita contro la Roma in tanti hanno sottolineato come poteva fare meglio in occasione della tiro da fuori di Mancini, io mi trovo d'accordo su questo, non voglio colpevolizzarlo troppo, però diciamo che forse insomma si poteva fare meglio su quella conclusione, insomma così da lontano, e quindi personalmente insomma io proseguirei con Scesni, non sto parlando di questa stagione perché questo è ovvio, ma comunque anche almeno per un'altra stagione. Per quanto riguarda il futuro, io vi dico la verità, cioè io voto questo partito qua, questo qui, adesso ho il microfono in mano, ecco qui, no però sono riuscito ad aprirlo, io voto questo partito qua ragazzi, io stimo Mattia Perin, secondo me è un bravissimo portiere, secondo me ha molto carisma, cioè al di là di quello che fa come portiere, ma lo vedete insomma anche in panchina, è un uomo spogliatoio, è uno che si è calato proprio bene nella realtà Juve, no? Questa è una cosa che diciamo di alcuni elementi, come quando l'abbiamo detto ultimamente di Danilo, e poi parlando proprio di ruolo nello specifico, mi piace come portiere, secondo me è un bravissimo portiere, quindi personalmente io la linea di, come dire, far avanzare Perin a portiere titolare della Juventus, la sposo, questa è una cosa che abbiamo fatto negli ultimi anni, soprattutto in dirigenza, no? Andava via uno e saliva di grado, di ruolo quello dietro, ecco possiamo farlo anche sul campo con Mattia Perin, perché secondo me è un portiere che ci sta. Lui fu un po' bocciato nella prima esperienza bianconera, però secondo me sempre perché pagavi il confronto con Buffon, l'idea che dovevi sostituire praticamente il portiere che è stato per 20 anni su dei livelli quasi per tutti e 20 anni, dei livelli clamorosi, allora nella tua idea dovevi rimanere a quel livello lì, invece non è semplice, non è semplice per nessuno, ma veramente per nessuno, non solo per Perin e per Scesni. Però Perin, ripeto, secondo me potrebbe meritarsi questa occasione di diventare il portiere della Juventus titolare con magari alle sue spalle o un portiere esperto oppure meglio ancora un portiere giovane che può magari raccogliere poi il testimone proprio dello stesso Perin, quindi si parla molto di carne secchi, c'è ovviamente anche in vetrina vicario dell'Empoli, però non so quanti anni abbia, e quindi insomma questa soluzione è qui. Perché su Scesni vediamo che cosa succederà ragazzi, perché adesso negli ultimi giorni stanno uscendo queste voci, se ricordo bene avevo letto che c'era stato anche un interessamento da parte del Tottenham, insomma lui potrebbe anche tornare in Premier, lui è stato il portiere dell'Arsenal, e quindi la Juventus sicuramente deve farsi trovare pronta, cioè per quanto adesso non sia un'emergenza, non sia un problema, però è una cosa sulla quale la Juventus deve riflettere. Ripeto, avendo Perin, che secondo me come secondo è un grande lusso, sicuramente stai un po' coperto, diciamo così, un salvagente ce l'hai. Poi ragazzi, il grande nome quando si parla di portieri, quando si parla di soprattutto Juventus è quello di Donnarumma. Io ragazzi, se mi seguite lo sapete, io non è che abbia tutta questa particolare stima per Donnarumma, parlo ovviamente del portiere, ci mancherebbe, ma attenzione non sto dicendo che lo trovo un portiere scarso, semplicemente lo trovo un ottimo portiere, ecco, ma io prenderlo a cifre spropositate, sia eventualmente di ingaggio, ma soprattutto di cartellino, ragazzi, io non ci sto. Io mi ricordo due anni fa quando c'era la possibilità di prenderlo, sì, il parametro zero dal Milan, al di là poi della commissione che dovevi dare a Raiole, eccetera, potevi da quel punto di vista fare un affare, però mi ricordo che si parlava di cifre da capogiro a livello di ingaggio, c'è roba sui 10 milioni di euro all'anno se non di più, ma credo che tanti ne percepisca a Parigi. Ragazzi, io non sono d'accordo su questa cosa, non sono d'accordo, in generale non sono d'accordo per i portieri, ma non per sminuire il ruolo, perché secondo me è il ruolo più complicato, psicologicamente è il ruolo più complicato di tutti, perché se fai una cosa bella, una paratona, ok, se ne parla nell'immediato post gara, ma poi già si dimentica, magari ci si concentra su quello che ha segnato, viceversa se fai una papera, se fai un errore, se ne parla, se ne parla e se ne parla, ben più di magari l'attaccante che sbaglia davanti la porta, quindi questo. E poi soprattutto è un ruolo che sì, devi essere bravissimo, però dipendi anche un po' da quello che fanno i tuoi compagni, la difesa in generale, la fase difensiva, perché come dico sempre, se sei un portiere bravissimo, ma veramente bravissimo, ma ti ritrovi con una difesa con la brodo e devi subire 10 tiri pericolosi contro a partita, è inevitabile che tu prenderai dei gol ogni partita. Ti può andare bene una volta e fai delle parate super, magari riesci a tenere la porta inviolata, ma se ogni partita sei sottoposto a una mole di tiri importante, magari prenderai dei gol ed ecco che magari verrai pure mal giudicato. Quindi è un ruolo bastardo da questo punto di vista da fare, però ci vuole tanta personalità e sappiamo che la maggior parte dei portieri ce l'ha questa personalità, ma lo stesso Donnarumma ce l'ha. Però comunque, per i motivi che vi ho appena detto, e anche perché io Donnarumma non lo considero un fenomeno, ma lo considero un ottimo portiere, io non lo farei questo investimento. Mi ricordo anni fa, quando ecco poteva arrivare, se ne parlava molto, e io dicevo, io mi tengo scesni, perché tra l'altro era quel momento dove stavamo facendo la trattativa per Locatelli, e io dicevo, se prendere Donnarumma significa poi non prendere Locatelli, io non ci sto. Ma non perché Locatelli è fenomeno da prendere assolutamente, in generale perché serviva un centrocampista e non volevo rinunciare a questo per un portiere. Soprattutto per Donnarumma, che ecco, non sto qui a strapparmi i capelli per lui. Comunque questo. Però, alla fine del discorso resta che proseguirei con Scesni, magari anche per un altro anno, e poi l'idea, secondo me, è quella di, l'idea giusta potrebbe essere quella di promuovere Mattia Perino come primo portiere della Juventus. Voi che cosa ne pensate? Ditemelo qui sotto nei commenti, ancora auguri alle donne, noi ci vediamo nei prossimi video, e come sempre, fino alla fine.